Come si può coniugare la passione per la lettura e l'interesse che qualcuno tra noi può avere per il cervello? Sì, come avete letto dal titolo, oggi si parla di libri e voglio mostrarvi questo. Ma ci arriviamo con calma. Amici e amici, ciao a tutti. Come al solito è buona norma ricordarvi giusto due cose. Primo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Secondo, seguitemi sui miei social network. Trovate tutti i link in descrizione. Bando ai convenivoli. Oggi vi parlo di una nuova collezione in uscita in tutte le edicole d'Italia proprio a partire da oggi, sabato 27 agosto 2022, dal titolo Scoprire le neuroscienze. Nel farlo però è doveroso ringraziare lo sponsor di questo episodio, Emsa Italia, che peraltro è la casa editrice proprio di questi volumi. Sono stato contattato per sponsorizzare questa collana e non appena mi è arrivato il primo volume a casa non ho potuto che fare la cosa più semplice fra tutte, trovare un po' di tempo e divorarlo per potervene parlare. Detto fatto, eccoci qui e raccontiamoci un po' di cose. Se proprio vogliamo essere precisini nella timeline del video vi lascio i marcatori di capitolo. In questo modo, se volete approfondire qualche sezione rispetto alle altre, beh, trovate tutto già organizzato e pronto all'uso. In questo episodio posso raccontarvi ciò che troverete nel primo volume interamente dedicato al cervello inconscio e quindi agli automatismi della nostra mente, proprio come racconta il titolo. Senza farvi spoiler, siete interessati a capire cose sulla coscienza e sull'inconscio? Bene, troverete un capitolo interamente dedicato all'argomento. Volete saperne di più sul cervello nell'evoluzione e durante le diverse fasi della vita? Ottimo, sarete accontentati. Vi siete sempre chiesti cosa hanno in comune memoria, emozioni e coscienza? Oppure, che so, avete sempre voluto saperne di più sul ruolo che hanno i sogni? Dovete acquistare il volume. Senza se e senza ma. Lo dovete acquistare soprattutto in virtù del fatto che il linguaggio con il quale il libro è scritto è assolutamente divulgativo, il che significa che si tratta di un'opera rivolta a un pubblico sì generalista, ma che ha due caratteristiche importanti. Primo, non semplifica i concetti ma li rende fruibili. E secondo, non si perde in inutili tecnicismi. La lettura è leggera, scorrevole e fidatevi, arriverete alla fine senza farci caso. E ne vorrete di più. E i libri di più ve lo danno? Ve lo danno per due ragioni. Innanzitutto perché alla fine di ogni testo sono presenti consigli di lettura che riguardano gli argomenti trattati nella collana. In secondo luogo, cosa importantissima e che mi sta particolarmente a cuore, troverete la bibliografia. Ovvero l'insieme degli studi scientifici di riferimento dai quali sono tratte tutte le informazioni. Se non si fosse capito, si tratta di una collana da acquistare e qui arriviamo al blocco successivo. Ok le edicole, ma qualche informazione in più? Il primo volume di questa collana, ve lo ripeto, è disponibile da oggi nelle edicole di tutta Italia al prezzo di lancio di 2,99 euro. I primi tre libri saranno disponibili ogni 14 giorni, laddove invece i successivi saranno acquistabili ogni settimana e ci terranno compagnia per tanto tempo. Si tratta infatti di una collana di ben 50 volumi. Come si presenta il libro? Come è costruito? Il libro è il classico volume di una collana presente in edicola. Copertina rigida, molto spessa e molto resistente agli urti, soprattutto negli angoli. E come ben sapete, questa cosa per i lettori che collezionano anche libri è fondamentale. Le pagine del libro sono stampate in bianco e nero su un tipo di carta molto bianca e di qualità decisamente alta. All'interno delle pagine poi ci sono moltissimi schemi, moltissime illustrazioni che aiutano la comprensione dei concetti che vengono riportati. Ogni volume ha un'illustrazione di copertina che accompagna una serie di informazioni, titolo, sottotitolo e nome della collana in alto a sinistra. Nella quarta di copertina poi titolo e sottotitolo sono accompagnati da un testo che decisamente vi convincerà nell'acquisto di questi volumi. Cosa ci raccontano oggi le neuroscienze? Quali sono i meccanismi alla base del funzionamento del nostro inconscio? Quanto sappiamo sui neuroni specchio, sulla resilienza e sulle fobie? Cos'è la plus dotazione e qual è il nesso tra il nostro cervello, il linguaggio e l'evoluzione? Ecco, queste sono solo alcune delle domande alle quali questi volumi provano a dare una risposta come piace a noi. Ve lo ripeto, con un linguaggio diretto e immediato che arrivi dritto al punto, senza perdersi in chiacchiere. Badate bene che non è finita qui. Se acquistate il primo volume e decidete di continuare la collezione avete due scelte. La prima è quella di continuare ad acquistare i successivi nella vostra edicola di fiducia. La seconda è quella di abbonarvi alla collana e ricevere i volumi direttamente a casa, accompagnati da altre sorprese. Per maggiori informazioni sull'offerta relativa all'abbonamento, sui vantaggi esclusivi riservati a chi ne sottoscrive uno e sui possibili metodi di pagamento, vi rimando al sito www.scoprireleneuroscienze.it Se volete avere davvero una bella collezione scientifica e libreria o avete la necessità di fare un regalo, non dovete fare altro che correre in edicola e acquistare questa collana. Su, state ancora qui. Dai! Grazie per la visione!